ciao dali e le potizze ecco io siamo pronti facciamo una cosa veloce metti la tavoletta di fronte a te di fronte un muro così di traverso prima appoggia la tua gamba sana quella che è destra vero ti appoggi al muro poi appoggi anche la sinistra e farai tipo si chiama la corsa una volta spinge il piede destro una volta spinge il piede sinistro e così fai ad inoltranza tipo per un minuto due minuti ok e ti puoi poi riposare ciao buona ginastica ciao